Stefano Stracci ce l'ha fatta. A soli 29 anni e 30 ancora da compiere, è il candidato scelto dal PD per concorrere alla poltrona da sindaco di Monteprandone. Presidente del lato in carica e consigliere provinciale, nonché segretario uscente del locale circolo, Stracci può essere definito l'uomo della sintesi. Quello che ha saputo riunire sotto l'insegna del PD e più in generale del centro-sinistra, le due anime che si erano scontrate nel corso dell'ultima tornata elettorale, con Bruno Menzietti da un lato e il fuoriuscito, Luigino Calvaresi, dall'altro. Manca solo la ratifica, ma sembra pressoché scontata, delle altre forze che compongono la coalizione di centro-sinistra, poi Stracci ve leggerà sereno verso il voto di giugno. Dal direttivo del PD di ieri sera, infatti, è emersa l'unanime volontà di candidare il giovane presidente del lato a sindaco di Monteprandone. Tamponata anche la frizione con Orlando Ruggeri, politico d'esperienza ed ex sindaco di Monteprandone. Il direttivo lo ha scelto per il collegio provinciale. Tradotto, Ruggeri sembra proiettato verso un posto quasi certo in consiglio provinciale, visto che il PD, nel circondario, ha sempre rastrellato tantissime preferenze. Tornando ad analizzare la situazione locale, Menzietti pare ormai definitivamente fuori dai giochi. Il sindaco sciente ha confermato di non volersi ricandidare, nonostante qualche corteggiamento, anche da compagini civiche. Mentre sfuma anche l'ipotesi Gino Gasparretti. In discrezione, infatti, parlavano della candidatura del presidente della BCC alla poltrona di primo cittadino. Confusa è invece la situazione sul versante del centrodestra. I due consiglieri uscenti, Massi e Camiglia, hanno già manifestato la volontà di non ricandidarsi. E nonostante i primi contatti con importanti imprenditori, Forza Italia non riuscirebbe a trovare la quadratura del cerchio. O meglio, non riuscirebbe ad individuare l'uomo su cui puntare, il cosiddetto antistracci.